La logica è quella del abbiamo il 46% è una logica che noi non condividiamo e sulla base della quale faremo delle valutazioni approfondite. È una lottizzazione che abbiamo sempre criticato quando la praticava la Lega, non cominceremo certo adesso a praticarla noi. Lo scontento per l'operato dell'assessore alla cultura Luciano Franchin rischia di diventare una questione marginale all'interno della maggioranza di Cassugana. È il rapporto di forza tra PD e liste civiche il vero nodo. L'impegno civile è pronta a lasciare la coalizione se gli attacchi al suo assessore non finiranno, ma il problema in realtà è un altro. Il problema è che la logica che guida questa amministrazione non può essere quella del siccome abbiamo il 46% dei voti vogliamo contare di più. A parte il fatto che il 46% dei voti alle europee li ha presi Renzi e non li ha presi Tonella, ma siamo proprio su un piano di caricatura della politica, di quella vecchia politica di cui i cittadini non vogliono più sentire parlare. Il sindaco Giovanni Manildo dichiarazioni sul caso non ne rilascia, si limita a poche righe su Facebook. I numeri del bilancio consuntivo del primo anno di mandato parlano chiaro, scrive Manildo. Grazie al lavoro dell'assessore Franchin sono state poste le basi per un radicale cambiamento di un settore, quello della cultura, dimenticato da troppo tempo e totalmente da ripensare. Secondo me Franchin rimarrà al suo posto per ottenuto la conferma della fiducia del sindaco, il quale dovrà farsi carico di intervenire anche presso il suo gruppo consigliare per spiegare come alcune critiche che sono state fatte a Franchin non siano consistenti. Io credo che se ne farà carico e credo appunto che questa vicenda si risolverà senza alcuna modifica alla composizione della giunta.